salve eccoci qua a questo nuovo appuntamento abbiamo già sperimentato un'iniziativa simile a quella che vi presento oggi se volete vederla la trovate sul mio canale youtube c'è una playlist dedicata all'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale è lo strumento del futuro del presente dell'immediato futuro anche per lo studio e quindi vediamo come utilizzarlo al meglio nella preparazione ai concorsi o nello studio per chi è già nella pubblica amministrazione e vuole metterla a frutto esistono varie piattaforme la più nota è chat gpt noi ne utilizzeremo un'altra ma il meccanismo e la logica è la stessa vediamo quanto ci possiamo fidare quanto no e come poterla utilizzare come le altre volte io utilizzerò la piattaforma di google che è meno performante da certi punti di vista ma diciamo ci si esercita anche per capire gli errori perché ci serve studiare anche laddove siamo in grado di poter identificare degli errori allora utilizziamo bard bard.google.com in che modo facendo dei quesiti potete già suggerirmi nella chat le vostre domande che posso fare all'intelligenza artificiale io le inserirò e poi vedremo dove andare a cercare gli elementi per migliorare il testo della risposta ricordatevi una regola fondamentale se scrivete ovviamente la prima volta fate la domanda potete fare delle domande di approfondimento questo migliora generalmente la risposta altrimenti se partite con una nuova chat riparte da zero il ragionamento di bard facciamo la classica domanda dimmi la differenza fra accesso documentale e accesso civico questa è una domanda che insomma capita molto spesso agli orali capita anche nelle domande a risposta aperta allora vedete già qui troviamo una limitazione sono programmato solo per lavorare il genere testi non posso aiutarti allora spiegami spiegami il diritto di accesso ai documenti vediamo un po' se riesce a elaborare come vedete sto diciamo preparando insieme a voi e questa volta ce l'ha fatta non dobbiamo demordere intanto sto guardando i vostri suggerimenti li utilizzerò forme associative del tuel e affidamento diretto allora guardiamo un po' il diritto di accesso a documenti è un diritto fondamentale riconosciuto ai cittadini italiani dell'unione europea il diritto di accesso della 240 del 90 i soggetti titolari sono tutti cittadini l'interesse diretto concreto attuale ottimo può essere presentato in forma scrittorale 30 giorni accesso documentale eccolo qua l'accesso civico ed eccola la differenza semplice generale perfetto che dire gli diamo un bel pollice alto risposta esatta è importante che diate feedback perché l'intelligenza artificiale generativa funziona in questo modo funziona grazie alla collaborazione di chi dà i feedback e magari dal pollice negativo se non è corretta la risposta poi si può perfezionare fare meglio ma guardate questa rappresenta già un'ottima risposta ad uno scritto un'ottima risposta ad un orale su cui si può costruire adesso andiamo a fare una nuova chat parlami parlami delle forme associative negli enti locali vediamo se in questo modo riesce a elaborare una risposta adeguata poi gli chiederemo dell'affidamento diretto le forme associative negli enti locali sono istituti giuridici che consentono a due o più enti locali di collaborare fra loro ottimo il quadro è il tuel l'articolo 24 perfetto le convenzioni obbligatorie facoltative le unioni di comuni ottimo in italia le forme associative sono sempre più diffuse secondo l'istat del 2022 1094 unioni comuni a me sembrano un po troppe ok mi sembrano un po troppe però diciamo che ci fidiamo di questo di questo dato forse sono tutte le forme associative comunità montane i consorsi non male non male mancano altre forme associative parlami degli accordi di programma perché non me ne ha ancora parlato vediamo allora che cosa mi dice ecco qua come vedete ci vogliono dai intorno ai 5 secondi gli accordi di programma sono un tipo di convenzione il contenuto lo scopo l'obiettivo ok bene vedete tuel e quindi abbiamo integrato anche in questo caso gli diamo un bel pollicione risposta esatta potete anche condividere la risposta attraverso la funzione condividi ed esporta in questo modo viene creato un link pubblico che potete condividere sui social network in modo tale che altri possano guardare la stessa risposta intanto ci sono persone che agli orali rispondono così bene sì diciamo che comunque sono vi assicuro che molti di quelli che fanno l'orale rispondono così bene facciamo una nuova chat dimmi dell'affidamento diretto ovviamente non gli ho precisato l'ambito affidamento diretto può essere appalti può essere le in house può essere possono essere altri istituti l'affidamento diretto è una procedura di affidamento di contratto pubblico che consente all'amministrazione per importi inferiore la soglia comunitaria come vedete ancora c'è il vecchio codice ok quindi ovviamente in questo caso la risposta sicuramente è corretta non lo approfondiamo ma dovrò ovvia integrarla con la disciplina del nuovo codice puoi approfondire in base al dlgs 36 2023 probabilmente ancora non ha queste informazioni intelligenza artificiale funziona bene quando gli do in pasto le informazioni aggiornate non sempre le versioni gratuiti è questa una versione gratuita open e invece mi ha stupito attenzione certo posso approfondire l'affidamento diretto in base al 36 2023 innanzitutto ricordare una procedura di un contratto pubblico articolo 50 con i vari commi mi sono stupito anch'io fino a poco tempo fa non aveva questo livello di aggiornamento quindi come notate l'utilizzo non di nuova chat perché nuova chat riparte da zero ma attraverso una risposta che avete ritenuto insufficiente o non aggiornate infatti ora do l'ok soltanto a questa seconda risposta non a quella precedente troviamo un approfondimento allora e magari gli posso chiedere anche che mi dici del principio di rotazione rotazione negli appalti vediamo un po se lo sa soliti 5 secondi circa il principio a disposizione che ha lo scopo di garantire la concorrenza in base al tale principio non può affidare un appalto al medesimo operatore economico benissimo o può essere delogato solo nei seguenti casi molto molto efficace molto molto efficace è introdotto nel 2016 in precedenza non prevedeva di vieto la previsione del principio di rotazione ha contribuito a ridurre il ricorso all'affidamento diretto a favorire la concorrenza degli appalti pubblici bellissima risposta e noi gli diamo un bel pollice alto anche a questa interessantissima risposta che ovviamente vedete ho chiesto dietro la il precedente quesito andiamo a vedere le altre gli altri suggerimenti quanti giorni prima vanno comunicate le riunioni in luogo pubblico troviamo questa vi consiglio di non usare l'intelligenza artificiale per domande troppo puntuali perché per queste c'è wikipedia c'è google ci sono altri strumenti proviamo vedete questa volta è troppo dettagliato perché forse non riconosce la parola tulps ho tolto il riferimento al tulps e infatti vedete riesce a trovare la risposta è un po' paradossale nella risposta mi usa l'intelligenza artificiale l'addizione tulps quindi in realtà lo conosceva però a volte quando la domanda è troppo dettagliata non riesce in italia l'articolo 18 prevede i promotori devono dare avviso almeno tre giorni prima al questore l'avviso deve contenere può essere inviato al questore ok puoi indicarmi un modello di avviso al questore vediamo un po' se riesce a darmi questa risposta attenzione mi ha preparato il modellino di avviso al questore preso ovviamente dal sito della questura di firenze immagino vedete questura di firenze nome cognome luogo residenza e mi ha preparato la modulistica con la tabella dove inserire le varie informazioni attenzione attenzione non è la panacea di tutti i mali va usato con intelligenza perché alcune volte possono uscirvi risposte sbagliate ma se usato bene è senz'altro uno strumento importantissimo di studio parlami degli organi del comune e della regione ok però facciamo nuova chat perché altrimenti si confonde le idee parlami anzi confrontami gli organi del comune con quelli della regione vediamo un po' se riesce a mettere a confronto perché questo è un livello più evoluto non soltanto da wikipedia cioè da nozione ma da paragone i comuni e le regioni sono enti locali dotati di personalità giuridica comune gli organi sono regione gli organi sono rispettosi dei due enti locali le principali differenze fra gli organi e il comune della regione sono fantastico non possiamo dire altro che ora lo sto leggendo veloce non so se anche voi avete delle tecniche di lettura veloce competenze elezione numero di membri competenze competenze della giunta del consiglio del sindaco in conclusione allora quando fate una domanda con le differenze la struttura della risposta è molto simile a quella che io ritengo l'ottima struttura di una prova concorsuale premessa dettagli conclusioni che normalmente finiscono con la parola in conclusione dove spiega appunto le differenze a volte vengono messe anche delle tabelle quindi direi che anche questo si merita un bel pollice alto parlami del partenariato pubblico privato perfetto parlami del partenariato pubblico privato e delle differenze con le concessioni questo ce lo aggiungo io per rendere un pochino più difficile la sua risposta intanto grazie dei like grazie della condivisione di questi video se vi è piaciuto questo tipo di video segnalatemelo intanto vi avevo lanciato un sondaggio vi ho chiesto hai mai usato l'intelligenza artificiale per il tuo studio il 66 per cento non l'ha mai usata un errore ve lo consiglio 25 per cento alcune volte quindi poco solo il 4 per cento spessissimo il 3 per cento spesso quindi da oggi spero di avervi stimolato a utilizzarlo ovviamente in modo puntuale magari in modo ragionato non in modo sostitutivo del di altri tipi di studio il partenariato pubblico privato è un modello di collaborazione le concessioni sono un tipo di partenariato pubblico privato le differenze principali sono eccole qui il tema centrale vedete premessa tema centrale che è l'oggetto della mia domanda partenariato privato pubblico privato come viene utilizzato cosa può offrire e cosa sono i rischi del partenariato pubblico privato ma eccezionale eccezionale devo dire che fra un po potrete fare anche a meno di me diciamo che ormai è statistiche più o meno campate in aria però insomma si va nella direzione di ritenere che l'intelligenza artificiale possa sostituire di qui al breve periodo una fetta significativa di molte professioni da pubblico impiego a le professioni di docenza a le professioni una delle prime che si ritiene possa essere diciamo intaccata sono quelle degli interpreti ora noi non la utilizziamo per la traduzione delle lingue ma ci sono progetti e programmi evoluti in questa direzione e quindi saperla usare significa anche riuscire a sopravvivere a questa altra rivoluzione industriale come si chiama l'indirizzo che ho digitato bard.google.com magari dopo la diretta andate a curiosare ed esercitarsi bard segue i miei corsi può darsi può darsi è possibile caricare il pdf di un testo di legge su bard per aiutarla a fornire risposte perfette? sì sì e adesso vi dico un'altra cosa vi consiglio vi consiglio allora bard diciamo ancora è molto indietro rispetto a chat gpt chat gpt la versione non free costa costa allora per consentire agli studenti di poter sfruttare l'intelligenza artificiale gratuitamente potete andare su community.omniavis.it registrarvi gratuitamente e se utilizzate la sezione l'esperto risponde avrete dopo pochi secondi la risposta di chat gpt a tutti i vostri quesiti se io clicco infatti vedete ogni quesito ha almeno una risposta perché viene generata automaticamente da chat gpt ad esempio uno studente michi buongiorno esiste un collegamento o meglio ancora nella relazione fra interesse legittime e discrezionalità amministrativa diritto soggettivo attività vincolata vedrete la risposta automatizzata con questo robottino per farvi capire che è una risposta da intelligenza artificiale attenzione non generica questa intelligenza artificiale che è stata elaborata dalla omniavis pesca da tutti i miei corsi da tutte le mie slide e da tutti i video gratuiti sul mio canale youtube e anche quelli riservati agli abbonati e sfrutta le risposte che ho fornito lì in modo tale da essere più perfetta cioè personalizzata per la preparazione ai concorsi quindi trovate automaticamente dopo poco vedete questo è proprio generato esclusivamente da chat gpt non da sottoscritto poi chi vuole può intervenire approfondire o segnalare se c'è qualcosa che non va ma come detto è alimentata proprio da materiale serve molto materiale perché l'intelligenza artificiale possa produrre delle risposte adeguate serve molto materiale deve capire il contesto in cui si inserisce quindi più il contesto è specifico preparazione concorsi più è facile insegnare all'intelligenza artificiale attenzione generativa cosa significa generativa che non è wikipedia non mi va a cercare la definizione di interesse legittimo e diritto soggettivo ma elabora le informazioni e le genera come fanno i nostri neuroni capendo il contesto nel quale si inserisce è un altro mondo è un mondo completamente nuovo è anche difficilissimo da comprendere CIG pagamento della retta vediamo un po' la risposta salve avrei necessità di comprendere se è necessario acquisire il CIG pagamento delle rette e qui la risposta con esempi concreti vedete la struttura è norme di riferimento esempi conclusione sintetica e riferimenti normativi ok vedete il vecchio codice il nuovo codice e l'ANAC perché ricorda il contesto avendo io fatto diversi video e diversi commenti sul su questa materia quindi link mettetelo fra i preferiti la community usatela ancor più di bard è molto più efficiente l'esperto risponde che non bard intanto vediamo un po' se ci sono altri suggerimenti eccoci torniamo al nostro bard e andiamo a chiedergli quindi cosa è il piao vediamo se lo conosce in italiano il piao è un prestito dalla lingua cinese che significa biglietto o tessera no non ci siamo però eccolo qua la seconda indicazione ovviamente bard non conosceva il contesto nel cui ho fatto la domanda quindi avrei dovuto semmai fargli la domanda cosa è il piao nel diritto amministrativo quindi se io contestualizzo ovviamente non mi darà spero la risposta del cinese ma il diritto amministrativo il piao non il piano perché ho scritto piano scusatemi giustamente che cos'è il piao nel diritto amministrativo ed eccolo qua piano integrato dell'attività organizzazione come è diviso le varie sezioni ok cambiamo nuova chat vediamo se ci sono vostre vostri suggerimenti vediamo se conosce le soglie quali sono le soglie degli appalti in base al dlgs 36 2023 ed in base al dlgs 50 bar 2016 quindi gli chiedo di fare un confronto probabilmente mi risponderà che è troppo complicato ho messo troppi riferimenti normativi però vediamo no l'ho sottovalutato le soglie degli appalti sono 5.538.000 bravo nel 50 2016 5.38.000 bravo le differenze sono ovviamente gli aumenti che si sono avuti in base alle nuove normative quali sono invece le soglie del sottosoglia vediamo se conosce il termine sottosoglia non credevo conosce il termine sottosoglia e quindi i limiti degli affidamenti diretti e i limiti delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando chapeau un bel risposta esatta do anche una risposta esatta al piao mi sembra giusto dopodiché qualcuno mi fa una domanda chi è chi è l'autore del tecnicale vediamo se è così aggiornato l'autore del tecnicale è sconosciuto il tecnicale è un testo di lingua italiana probabilmente risalente al tredicesimo secolo ora con tutto il rispetto di mio figlio no no puoi parlarmi del moderno tecnicale di alessandro vediamo un po se suggerendogli il nome di mio figlio riesce a individuarlo oh incredibile ale se stai guardando questo video dovresti essere orgoglioso che bard ti riconosce il moderno tecnicale di alessandro è un corso online creato da alessandro chiarelli che insegna come risolvere i quiz dei concorsi pubblici il corso si basa sul metodo tecnicale che è un metodo innovativo e permette di risolvere i quiz anche senza conoscere la materia mi fa rabbrividire descrive molto meglio di me diciamo quello di cui si tratta ovviamente io era questo da buon babbo orgoglioso di suo figlio me lo creo il link pubblico adesso lo mando subito ad alessandro oh quanto ci metti a crearlo dai non mi fare non ci provare eh riproviamo a lanciarlo crea link pubblico allora qualcuno domanda se c'è una macchina che conosce e sa applicare queste nozioni perché la pia dovrebbe continuare ad assumere intanto per programmare questo tipo di macchine e arriveremo anche a questo è lo stesso ragionamento che facevano i luddisti quando alla macchina all'invenzione della le ma le prime macchine a motoroscopio delle ma o delle macchine per tessere automatizzate distruggevano le macchine convinti che avrebbero tolto posto di posti di lavoro e questo ovviamente è sicuramente un tema adesso bard io lo uccido se non prova a crearmi il link pubblico per mandarlo ad alessandro vediamo se ci riesco ora poi non insisto e tanto ci torno sul tecnicale volevo capire da cosa dipende eccolo qua bene andiamo adesso a vedere un'altra cosa nuova chat se mi sostituisce vado volentieri in pensione anticipata è troppo facile buonasera a tutti mai usata per motivi di studio perché scettica sulla sua affidabile dopo questo interessante esempio la testerò sicuramente io uso chat gpt3 chiedi pia in community è gratuito chat gpt c'è la versione anche gratuita posso chiedere a bardi parlare della scia certo mi dici le caratteristiche della scia nella legge 241 poi guardiamo se possiamo chiedere di qualcos'altro intanto elisabetta mi dice chiarelli hai un problema io sto allora eccolo qua la scia istituto della 241 ok mi fai mi fai uno specchietto con le differenze fra responsabile del procedimento e rupp vediamo un po se questa domanda un pochino più difficile avrei dovuto fare nuova chat perché non c'entra con la scia però vediamo se me la riesce a fare definizione responsabile procedimento compiti rupp definizione compiti o eccole qua questo vedete è uno specchietto molto spesso se lo chiedete chat gpt reali chat gpt e bard realizzano questi specchietti vedete caratteristica il responsabile procedimento è nella 241 il rupp nel codice dei contratti compiti istruzione impulso del procedimento organizzazione direzione coordinamento responsabilità amministrativa disciplinare amministrativa disciplinare ambito applicazione tutti i procedimenti sono ai contratti pubblici essenziale ma corretto non è più responsabile unico del procedimento ma è del progetto è rimasto con la vecchia normativa ma se gli chiedessi di aggiornare la nuova normativa in sintesi sarebbe lo stesso quindi non male anche questa risposta vado avanti con le vostre richieste parlami della programmazione triennale le diverse forme di programmazione subito parlami della programmazione triennale e delle diverse forme di programmazione negli enti locali diciamo glielo contestualizzo altrimenti diventa troppo generico allora la programmazione triennale è un processo che consiglia di dare gli obiettivi analisi dei bisogni definizione degli obiettivi definizione delle azioni programmazione triennale negoziata e partecipata non mi soddisfa non mi soddisfa molto parlami nel dettaglio del DUP e del PIAO vediamo un po' se chiedendogli la programmazione finanziaria la programmazione non finanziaria eccolo qua il DUP è lo strumento che è articolato in il DUP è un documento fondamentale il PIAO è articolato in sezioni il PIAO è un documento il rapporto fra DUP e PIAO bellissimo questo è il rapporto fra DUP e PIAO e ti meriti un bel pollicione in alto come spero se volete metterlo anche voi un bel like beh bravissima Mary che mi chiede riesce a fare i decalogi per materia? e adesso sperimentiamo fai un decalogo degli elementi essenziali dell'atto amministrativo poi vi faccio vedere un'altra importante funzione decalogo degli elementi essenziali dell'atto amministrativo soggetto, oggetto, contenuto, causa, motivazione, forma, destinatario ora termine, condizione e onere se li poteva evitare però vedete li distingue dopo fra elementi essenziali e elementi accidentali perché insomma non ce la faceva ad arrivare a 10 però lo perdoniamo non è male non è male come risposta e quindi gli diamo un bel 10 facciamo così fai un decalogo degli aspetti principali dei contratti pubblici vediamo se riesce a sintetizzare meglio di me e se lo fa cancellerò Bard a parte gli scherzi bisogna confrontarsi con chi prima o poi prima o poi, inevitabile questione di mesi, anni, non lo sappiamo sostituirà gran parte di noi e ben venga noi faremo altro daremo le informazioni perché la macchina funzioni al meglio decalogo degli aspetti principali dei contratti pubblici principi fondamentali soggetti coinvolti tipologie di contratti procedure di affidamento contratti sotto soglio subappalto, esecuzione dei contratti controllo e tutela ricorsi, sanzioni almeno i titoli non sono male poi il contenuto, vedete è un po' sintetico però come 10 titoli diciamo di argomenti con cui sintetizzare tutto il mondo dei contratti pubblici non è male parlami parlami del certificato di agibilità Johnny vieni qua vieni sottituirà anche te Bard? vediamo un po' se John dai è il futuro devi guardarlo insieme a me vieni no sono un modello linguistico allora elementi del certificato di agibilità forse chiesto in questo modo riesce a rispondere a volte no no non gli piace proviamo a mettere solo il certificato di agibilità vediamo se non si offende non posso aiutarti ha deciso che agibilità è l'ultimo tentativo agibilità edilizia vediamo se contestualizzato in ambito edilizio riesce a farlo la prossima è differenza fra gestione provvisoria e esercizio provvisorio eccolo qua l'agibilità edilizia insomma gli piaceva il contesto e vedete com'è bello ricco allora attenzione scrivi almeno mille parole sulla differenza fra gestione provvisoria ed esercizio provvisorio provvisoria ok gli ho chiesto un minimo di parole come vedete bard è abbastanza sintetico usa un format standard ok vediamo ecco qua gestione provvisoria esercizio provvisorio le differenze le somiglianze la conclusione non ho contato le parole ma immagino che siano quelle mi sembra che ci siamo vediamo un po' se ci sono altre domande le differenze fra determina e delibere ordinanze vabbè proviamoci allora fammi uno schema con le differenze fra determina e delibere ordinanze non gli ho messo per favore diciamo per fortuna l'intelligenza artificiale al momento non si offende fantastico anche solo a guardarlo così poi nel merito andiamo a vedere se è fatto bene però come vedete fra l'altro si può esportare in excel allora organo competente la determina del dirigente la delibere dell'organo collegiale l'ordinanza dell'organo monocratico ci sta la tipologia atto amministrativo atto amministrativo atto amministrativo contenuto decisione esecutiva decisione indirizzo programmazione decisione vincolante interessante effetti bene validità un anno rinnovabile beh questa se la poteva risparmiare sei mesi rinnovabili questa è una sciocchezza ok forma scritta in forma libera scritta in forma libera sì pubblicazione obbligo per il seno al proprietorio sì ci siamo e poi fa la spiegazione delle tre tipologie diciamo che non è perfettissima ma ci può stare vediamo se ci sono altre indicazioni da parte vostra altrimenti insomma siamo arrivati semplicemente vi volevo accennare ad esempio preparami preparami 10 quiz con 3 opzioni sul procedimento amministrativo vediamo un po' se sa realizzarmi una batteria di 10 quiz con 3 opzioni sul procedimento amministrativo lo sa fare il procedimento amministrativo è un'attività organizzativa amministrativa o giurisdizionale questo è semplice B l'inizio del procedimento può avvenire a seguito di un fatto giuridico le fasi del procedimento sono apertura istruttoria decisione iniziativa istruttoria decisione apertura istruttoria comunicazione insomma queste sono sbagliate un po' tutte forse la B era la più giusta non so dove abbia preso la 3 per esempio sbagliata come termine però magari ci può aiutare anche proviamo a farne a rifargli la stessa domanda però preparami 10 quiz livello difficile con 3 opzioni sul procedimento amministrativo Stefano dice chissà se l'intelligenza artificiale è in grado di prendere un 5 con un nuovo sistema non capito perché l'intelligenza naturale ancora è più forte quiz sul procedimento amministrativo livello difficile quale delle seguenti è una fase del procedimento ma insomma questa non è proprio difficile anche se si è fissato che l'apertura è una fase del procedimento amministrativo quale delle seguenti è una forma di partecipazione procedimentale ma facciamo così no hai sbagliato l'apertura non è una fase del procedimento amministrativo guardiamo un po' se lo correggo se è per maloso o per malosa non conosciamo il genere vediamo se riconosce l'errore hai ragione ho sbagliato l'apertura non è una fase del procedimento amministrativo ma piuttosto l'inizio del procedimento stesso la fase dell'iniziativa è quella in cui viene avviato il procedimento vedete gli abbiamo insegnato qualche cosa guardate bene attenzione mi ha corretto la domanda 1 dove aveva dato come risposta esatta all'apertura e adesso mi dà come iniziativa questo per spiegarvi guardate è concettualmente enorme come l'intelligenza artificiale grazie a quello che stiamo facendo ora un po' fra il gioco e l'insegnamento ha imparato una nuova nozione la sta acquisendo e adesso la prossima volta che qualcun altro farà la stessa domanda gli darà la risposta esatta ecco questo è quello che avviene quotidianamente migliaia milioni di volte quando utilizziamo l'intelligenza generativa ecco perché sarà una crescita esponenziale quella dell'intelligenza artificiale generativa quanta qualità della risposta perché interverremo anche suggerendogli dove ha sbagliato e dove può migliorare a questo punto gli do un bel risposta esatta in modo tale da contribuire in questa logica e vediamo un po' se l'ultima prova analizzami la differenza fra diritto soggettivo e interesse legittimo che faccio fare sia a bard vediamo se mi dà la risposta me la dà sia nella chat dell'esperto risponde vediamo in diretta la risposta di chat GPT qui vediamo vedete anche uno specchietto riepilogativo molto interessante sicuramente fatto bene l'ho già individuato adesso andiamo a prenderci il link che andiamo a mettere dopo qui in modo tale da verificare ci vorrà qualche minuto prima che appunto il sistema trasmetta la risposta io intanto vi metto il link così la potete vedere all'interno della community vi ringrazio per l'attenzione vedo che ci sono anche molti altri suggerimenti ma è a disposizione di tutti quanti vi suggerisco di usare la community l'esperto risponde in modo tale da avere a disposizione le risposte di chat GPT versione professionale BARD versione gratuita diciamo a un livello leggermente inferiore ma comunque è utilizzabile noi ci vediamo alla prossima occasione di formazione se vi è piaciuto mettete like se vi è piaciuto condividetelo con altri e ci vediamo alla prossima da me e da Johnny è tutto un saluto buono studio un saluto